Frede e benvenuti in questo nuovo shop o passo di Marvel Snap, prima variante di oggi, Orca Kibbi ragazzi. Un'orca bellissima con l'ancora in mano e gli addominali piccolina, shop. Leech Pixel che ne manco così tanto brutto però, passo. Blob di The Nip mi fa altamente schifo, passo. Sera di The Nip, il mio shop è sempre impestato da The Nip, passo. Valkyria di Artige, ma ragazzi, Valkyria di Artige, mamma mia, che bella. Che bella, godo. Questa è, diciamo, la variante di Jeff più comune, è una bella variante, shop. Death di Rincione, una delle migliori varianti da 700 di Marvel Snap, secondo me, anche questa qui, la shoppiamo. Andiamo a chiudere con una bella variante di Silver Surfer, in assoluto non la migliore, però per 700 gold ci sta, shop. Se la Shorts ti è piaciuto, lascia l'è che iscriviti al canale.